La si potrebbe chiamare Mr. X, meglio visto che si dice la vibonese al femminile. Miss X, allora la formazione di Mr. Roselli, il dato è presto spiegato. Sono ben 17 i pareggi per i calabresi che sabato pomeriggio affronteranno l'Avellino tra le murami che cercheranno di conquistare punti preziosi per tirarsi fuori dalle sabbie mobili dei play-out. Solamente 5 le vittorie per il rosso-blu che non vedranno tornare due ex di turno come Silvestri e Tito, uno per Infortunio, l'altro per Squalifica. Addirittura per Roselli e i suoi ragazzi sei pareggi consecutivi prima delle due sconfitte intervallate dalla vittoria contro il Teramo per 3-1 e un altro pareggio nell'ultimo turno contro il Palermo. Fanno 7 X in 10 partite, a volte è meglio perderne una e vincerne un'altra piuttosto che fare due pareggi di fila, lo dice la matematica. Ma la vibonese è una squadra comunque tosta che fa giocare male le avversarie, ce lo ricordiamo bene ad Avellino quando il 23 di dicembre serviva un'autorete di Vitiello a sbloccare il match e regalare i tre punti ai biancoverdi imbrigliati proprio dalla fisicità e l'organizzazione difensiva dei calabresi che si sono arricchite qualche settimana fa dell'arrivo dell'ex Avellino Gerson Vergara in difesa, colombiano, scuola Milan. Altro ex di turno che però ci sarà è Gabriele Bernardotto l'anno scorso, con la vibonese il suo primo anno tra i professionisti bagnato con sei reti in stagione.